Ricordate le favole, le chiacchiere dell'amministrazione Melucci, del sindaco Melucci, dell'assessore Mattia Giorno, quando parlavano di riqualificazione della città vecchia di Taranto, parlavano della realizzazione del waterfront, dell'affaccio sul mare, la riqualificazione del lungomare di via Garibaldi, sono proprio qui in via Garibaldi, di fronte abbiamo la chiesa di San Giuseppe e queste sono le macerie, lavori iniziati mesi e mesi fa, ora completamente abbandonati vedete c'era e c'è una recinzione, questa recinzione ora è divelta, è abbattuta lo vedete e ci sono dei rischi per le persone che transitano perché qui si può transitare e quindi pensate un po' cosa c'è, guardate è un cantiere, materiale di risulta così materiale tutto abbandonato, non è che viene rimosso, si lascia, vetri rotti, guardate è mai possibile? È passato così tanto tempo, prego il nostro operatore di zoomare, guardate un po', l'erbaccia è cresciuta e l'erbaccia proprio, la vegetazione spontanea vi fa capire quanto tempo è passato da quel dì in cui appunto sono state fatte le promesse di riqualificazione e di rinascita, ma guardate i pericoli che ci sono, guardate tutto questo materiale abbandonato, pietre, ma con acqua, con pioggia, bottiglie anche qui, nessuno interviene, nessuno interviene ma facciamo vedere questo contrasto, un lungomare, un affaccio al mare fantastico, bellissimo dovremo valorizzare le nostre risorse e invece abbiamo un'amministrazione comunale paralizzata e paralizzata e paralizzante, questa è l'immagine della città vecchia, guardatela signori cittadini, quando Melucci e compagni vi raccontano le stronzate politiche, le puttanate politiche, rispondete con queste immagini, rispondete con queste foto, rispondete con questi video, è normale questo? Da mesi e mesi, da mesi e mesi paralizzare la vita della città vecchia, mettere a rischio l'incolumità dei cittadini e a me poco fregano tutte le beghe interne, la ditta per questo motivo, per quest'altro si è fermata, voi sapete soltanto tagliare i nastri, sapete tagliare i nastri, la realtà è questa, la realtà è questa, le macerie, le macerie, queste sono le macerie della città vecchia, le macerie della città vecchia, guardate, mi devo divertire con questa amministrazione, mi devo divertire perché dovete essere sputtanati, sputtanati per quello che dite e per quello che non fate, questo da mesi e mesi. Ma cosa sono gli scavi di Pompei? Cosa sono gli scavi di Pompei? Eppure una ditta, finisce i lavori anche se fossero interrotti, deve essere messa in sicurezza, mica si possono lasciare i vetri rotti, il tufo, le pietre, le mattonelle, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando, con la gente che cammina qui, con la sera, con la scarsa illuminazione, qui si cade, Dio santo si cade, lo capisci o no Melucci? Ma questa amministrazione come cazzo è che non capisce? Come cazzo fa a non capire? Mai visti degli incapaci simili? Mai visti? e hanno il coraggio di parlare, ecco, non fatemi dire altro perché io mi innamoro quando guardo queste immagini, guardate anche qui, i pescherecci, la marineria, le origini legate indissolubilmente a mare, le origini di Taranto, la vita di Taranto che deve essere deturpata da questi incapaci, le macerie, tutto aperto, qua tutto aperto, tu cammini e ti trovi le macerie addosso. Melucci, sindaco, assessore ai lavori pubblici, ora Mazzulli, che avete deciso? Cosa avete deciso? Dal waterfront della fantasia di Rinaldo Melucci è tutto, restano le macerie. Questa è la rinascita che Melucci dice che sta seminando, il meglio viene adesso, ecco, è arrivato il meglio, questo è il meglio che vi offre Rinaldo Melucci. Ve lo posso dire alla tarantina maniera, Melucci e compagni? C'è curcatevi che è meglio, andate a coricarvi, andate a dormire che è meglio.